Ben ritrovati amici di Yo-Kai Watch Italia Oggi faremo un gran bel video guida per il nuovo evento di Yo-Kai Watch Wibble Wabble Lo stavamo aspettando da davvero tanto tempo, forse troppo Prima di partire ti chiedo sempre un bel pollicione su perché ne abbiamo veramente bisogno Iscrizione se non sei iscritto perché se arriveremo a 5.000 iscritti entro fine anno farò l'estrazione di un gioco Pokémon Quindi approfittano adesso, bam bam, pollice su e iscrizione al canale Io direi che abbiamo già parlato troppo e andiamo subito ad aprire Wibble Wabble C'è un aggiornamento da fare, è veloce però va fatto perché se no ragazzi non potete giocare Ragazzi ci sono davvero un sacco di novità, andiamo a vederle una per una La prima si vede un Ikirin, lo stavamo aspettando da giorni, da settimane, da mesi, da troppo tempo Andiamo a leggere insieme cosa succede Gli Yokai Wibble Wab a tiratura limitata sono disponibili nella RIV o Slotkai Quindi saranno nella Slotkai, non so che lingua hanno messo E ci sono un Ikirin, Arachnia e Madrena, tanta roba Sono stati aggiunti alla Slotkai, alla Lucky Slotkai, quindi la Lucky Slotkai c'è ancora Ed è rimasta a 3.000 e non hanno messo a 4.500 ed è già un'ottima notizia Sono ovviamente tutte e 3 di grado S Durante questo evento appariranno gli Yokai con un'abilità speciale Ok, lo sappiamo già Usa gli Yokai Wibble con un'abilità speciale Clicchiamo lì e vediamo quali sono le loro abilità Perché ci serviranno, andiamo a vederlo più avanti Bonus danno contro le scatole di Yokai Abbiamo Arachnia Incremento d'attacco durante il collezionamento Shogunyan, Komademone, Senifior e Barbonbell Incremento di punti salute sono Gilgador, Rovinella, Profesorso e che cosa cosa? Octaserp Leggo bene ragazzi, Octaserp, tanta roba Bonus di cooperazione abbiamo Madrena E bonus cooperazione durante il collezionamento Unikiri Cioè ma io con Octaserp sto andando fuori Va bene, ok, ok Andiamo a vedere cosa ci dice la battaglia Gran Baruffa Yokake Apriamo Inizia la battaglia Yokake Gran Baruffa E la Scramble Battle per quelli che hanno già giocato la versione americana o giapponese Praticamente bisogna scegliere uno dei tre team Ce ne sono, cioè quello blu, quello rosso e quello giallo Sono Komasan, Jibanyan e Komagiro, semplice Io ho scelto Jibanyan per ora Allora, scegli uno dei tre team e combatti per ottenere il più alto numero di Yokake Ottieni ricompense e contribuisce alla vittoria del tuo team Quindi dobbiamo giocare insieme ragazzi Completa le missioni evento, ok Colleziona ciambelle e guida il tuo team alla vittoria Rosso o rouge E Jibanyan S Bleu Ma perché me lo mettono in francese? E Komasan S E Jun Giallo E Komagiro S Ci sono cinque round in totale per la battaglia Yokake Gran Baruffa Alla fine di ogni round il team con più Yokai vince Durata dell'evento, il primo round è da oggi al 3 Il secondo dal 4 al 7 Il terzo dall'8 all'11 E il quarto dal 12 al 15 Quindi è un evento che dura metà mese, ok? Più alto il rango del tuo team, migliori saranno le ricompense Quindi ci consiglia di darci da fare Vabbè, ok Rank 1 ci danno, vabbè, 5.000 Rank 2, 2.500 Rank 3.000 Quindi uno di questi tre per forza ce l'avete, ok? Dobbiamo contribuire alla vittoria Ottenendo punti cooperazione Ci sono tantissime ricompense in base al rango del tuo team Ok, se ovviamente hai la tua cooperazione hai tre opzioni Uno Completa il puzzle ottenendo torte Anche ottenere Yokake durante i livelli puzzle accrescerà la cooperazione Ottimo Dopo ce l'andiamo a leggere quello Due Colleziona Yokake nei livelli bottino e ottieni punti cooperazione Ok Tre Scaccia gli invasori nemici Tanta roba questo Di tanti in tanti i nemici invaderanno il livello che hai completato Ovviamente li devi ricompletare per rimandarli via e prendere punti cooperazione Durante le battaglie Yokake Gran Barufa Gli Yokai con abilità speciale ovviamente sono utili E nuovo Leggendario Come abbiamo letto prima È Chi è ragazzi? Vai che lo sapete Ok, se lo abbiamo letto prima Unikirin ti aiuterà a liberare uno Yokai leggendario Va bene Ovviamente per poterlo fare ci serve Sergente Quadro a livello 16 Va bene, facile Andiamo a vedere Le Yokake, che cosa ci danno Per ottenere gli Yokake si possono trovare Nei livelli puzzle o tramite il collezionamento Nei livelli puzzle nella mappa sono cose da rompere, da scoppiare Ok, molto facile Sono delle scatole e devi scoppiare Apri le scatole di torte per ottenere gli Yokake Molto molto semplice Tramite il collezionamento Praticamente sulla mappa eventi Troverai dei livelli prendi tutto Usa i tuoi Yokai Wibwob Nei livelli prendi tutto per collezionare le Yokake dei team nemici Quindi andremo noi a dar fastidio ai team avversari Collezionare richiede tempo Ovviamente dobbiamo avere tanto tempo per giocare Torniamo indietro e andiamo alla pagina che ci interessa di più Andiamo nel medaglium ragazzi Perché è davvero necessario sapere chi ci serve per sbloccare Octa Serp Andiamo indietro Allora, Corocchio che lo troviamo alla piena ciabatta È il primo credo Quello in alto, in alto, in alto E parte da lui se non sbaglio Poi abbiamo Confuxi che si trova raramente al 243 di livello Sempre nella piena ciabatta Poi abbiamo Movikappa che si ottiene con delle missioni Giuro che non mi ricordo Però basta andare a vederla e si trova facile Poi vabbè Unikirin che si trova solo slottando Poi abbiamo Madrena che o si trova slottando Oppure si ottiene fondendo Serena con la Perla della Sirena La Perla della Sirena si trova a San Fantastico nello stage 206 Ok? Quindi contro Ankorat, mi raccomando E poi, ultimo, abbiamo Movikappa che è allo stage segreto 25 E per sbloccarlo bisogna fare una combo da almeno 50 Nello stage 250 se non sbaglio Andiamo a vedere che ve lo faccio scoprire subito Andiamo indietro, dovrei già essere lì più o meno Ok, allo stage 250 dove ci sono gli Innasocenti Dovete fare una combo da 50 Quindi ragazzi, tutti sotto a giocare a Wibble Wubble Perché dobbiamo prendere Octaserp Vi ricordo che Octaserp è devastante per farmare Quindi, tutti giù, andiamo lì, giochiamo ragazzi E mentre giochiamo ragazzi, se vi scappa un bel pollice su Mi fate un grosso regalo Io adesso, ovviamente, andrò a giocare Slotterò tutto in live Perché voglio farlo con voi, ve l'ho promesso E mi raccomando, quando farò la live Credo che sarà giovedì O una sera, la faccio Venite a portarmi fortuna Ok ragazzi, per oggi è tutto Andiamo a farmare, andiamo a sbloccare Octaserp tutti insieme Ricordatevi team rosso alla prima Poi farò team blu e team giallo Comunque dipende Io credo di fare così Comunque dipende Dal team che vince al primo round Va bene ragazzi? Dai, per oggi è tutto Un saluto Ciao ciao Ciao